Allora ragazze di Grotta Casolo, pallavoliste prima in classifica giusto? No Vedo che sono molto attente al loro campionato, come sta andando il campionato innanzitutto? Abbastanza bene dai Avete trovato qualche ostacolo sulla vostra strada o avete vinto tutte le gare? No, abbiamo trovato qualche ostacolo E oggi qui a giocare a bowling, è divertente? È divertente il bowling? Sì, sì, molto Chi ha fatto il miglior punteggio qui? Vediamo Io chi? Di là, però ho battuto anche quelli lì E' battuto anche i maschi? Sì, sono arrivati prima Allora, cosa vi sembra questa idea di venire a giocare anche a bowling oltre a giocare a pallavolo? È meglio la pallavolo? Sì, dai Ci si annoia qua? No Quindi va bene anche questa attività qualche volta? Sì, molto divertente, siamo venuti anche l'anno scorso, ci siamo divertiti anche l'anno scorso E con la scuola? No, non ci si pensa No Oggi è domenica? Sì, per fortuna Qui siamo sulla pedana numero? Sei, sette, sette, otto, non sappiamo Comunque loro sono i ragazzi di? Gniardo Gniardo, chi è che è in testa? La ragazza di là Ah, neanche i maschi, sono le ragazze in testa Allora, questi ragazzi normalmente giocano a pallavolo, giusto? No, a calcio Siete sicuri? E come sta andando il campionato di calcio? Dai, bene Terzi siamo E i punti di oggi serviranno? Sì, siamo Con una partita in meno siamo ancora Gli avversari che avete trovato più tosti in questo campionato? No, no, no Giocano bene? Sono, credo che siano anche un po' più grandi E subito qualche scusa, no, no, sono più bravi No, no, siamo più bravi noi Oggi col bullying chi è che di voi che ha fatto il punteggio più alto? Eh, io Ok, sono d'accordo con me che è più bello il calcio Ma è bello anche giocare a bullying, giusto? Sì, sì, bello, bello